L'emergenza idrica che sta attanagliando alcune zone di Barcellona a Pozzo di Gotto ha portato ieri l'amministrazione comunale a decidere di convocare il COC. Da giorni ormai il rione Panteini a Pozzo di Gotto e le frazioni collinari, in particolar modo Gale e San Paolo, soffrono per la carenza di acqua. In alcune zone, come documentato dall'utenza su Facebook, l'acqua nei giorni scorsi usciva dai robinetti con una nomala colorazione. Al COC è spettato il compito di prendere atto delle emergenze e di confrontarsi al fine di individuare tutte le soluzioni possibili per superare la fase critica in un periodo dell'anno in cui l'acqua viene maggiormente utilizzata dai cittadini. Nel suo comunicato, l'amministrazione comunale punta l'indice sulla scarsità di precipitazione durante le precedenti stagioni e sulla siccità degli ultimi giorni, cause che avrebbero inevitabilmente determinato una riduzione di portata delle falde acquifere causando le criticità, specialmente nelle zone più lontane dai punti di prelievo. Il COC ha stabilito intanto come ottimizzare la distribuzione di acqua nelle zone maggiormente disagiate, un aiuto che arriverà attraverso gli autobotti comunali e volontari del Club Radio CB, sempre preziosissimi con il loro spirito di collaborazione. Ma la situazione è evidente, va corretta per quanto possibile e prima possibile. Saranno predisposte rese note ordinanze funzionali per un più razionale impiego dell'acqua erogata dalla rete per evitare sprechi. Nel contempo si è anche discusso dei rifiuti, ne è scaturito il solito appello al buonsenso dei cittadini.